La mia figlia di Sant'Antonio Allora, quelle canzoni che ti ho contato? Ma quella che ti va di prima? Quando Sant'Antonio? Quando Sant'Antonio va alla scuola Trova la mamma, piange e sospira Perché piange e sospira mamma? Ora sono due ghiaglietà Ho figli, figli Prima di nascere i padri erano segnati ai demoni Allora, figli hanno un spriolo e una sprietta E quando Sant'Antonio riusciva dalla scuola Trova la mamma, piange e sospira Che sospira mamma Ora sono due ghiaglietà Noi figli, figli, ma che ci ha detto questo? Noi figli hanno un passato del mio peccato Non c'era niente e non c'era niente Quando i demoni fossero segnati Parola del suo padre non voleva Se la sua mamma non ci la consenteva Allora diceva Mamma, mamma, ora si è fatto questo La pasta che si distribuiva Trima di Sant'Antonio La siete fatta male? No 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 Noi siamo fatte solo i fuochi di Sant'Antonio In cima a Sant'Antonio Sant'Antonio E hanno fatto i nonni nostri E quindi che facevano i fuochi? Eh? A te facevano i fuochi in cima? In cima a Sant'Antonio La cuniccia L'hanno fatta da donna mia Tre volte l'hanno fatta Perché se si è spallata Ma l'ultima volta Poi c'è stato Giambiere Quindi da donna ti l'ha fatta? Eh? I da donna ti l'ha fatta? Da donna mio Da donna Nicola Da donna Amblere Era il padre da mamma E poi c'erano le donne Si erano sposate Oh E quindi questo praticamente Di sedici a sera La sera di Sant'Antonio Quando ti vedevano Appaccevano i fuochi Ma facevano? Si E appaccevano Quello di Amblere Quello di Amblere Quello di Amblere I cosi I spini I cosi Che inibili Che inibili Eh, inibili Allora non c'erano I rossi Non ne portavano più in mare E non c'erano Il re da Papinella Maria Paccinella Locamonte E gli tracce Avevano E Sembra All'occhio in cima E si ammettevano E quindi si facevano i fuochi all'occhio E inizioni Ancora non si facevano No, no Quando poi Cominciano la cottura No? Quando che la piccola La cottura Ah si? Prima si aveva metto Un po' di tutar No? Ma I tutar si mettevano Due giorni Prima Un giorno prima Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano E poi Se l'avevano E poi Poi Quando erano sopra Gli animali E poi Sotto Se l'avevano Se l'avevano E poi Se l'avevano Se l'avevano E poi Se l'avevano E quando Se l'avevano E quando I prete A benedici Ma la sera I prete I giorni No? E Puro Quando se l'avevano I prete Puro Quando se l'avevano I prete No Più o meno Mi ricordi Ma Che si diceva Di rosario Nelle taniere Nelle taniere E poi Si diceva Di rosario La notte Tutta la notte Gli attuni Gli attuni Gli attuni E tutto Se l'avevano Se l'avevano Dopo 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 Ma quando Prima non Quando Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano Se l'avevano La notte La notte La notte La notte La notte Verso Pedricchi Allora Qui I cose I figli Se ne avevano La più sermone Che Se l'avevano 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 Eh Se l'avevano Che Perchè Quando la mano da Dio e Dio ai cristiani. Ma questo è sempre prima quando andavano a discorso la sede prima di Sant'Antonio? Prima la sede, prima quando andavano a discorso. Parchivano i vaccioli, i vicini? I vicini, i vicini e tutto. E che canzoni cantevano? Eh, Sant'Antonio, a Sant'Antonio al Zalman, per i 10 anni male. I capretti con l'agnello e anche il bullo e l'asinello. Sant'Antonio, pure, le riempie le famiglie, le famiglie la riempie. Sant'Antonio ci ha laudato. E tu la cantevano? E quella Sant'Antonio Ciccioconte la cantevano? Come è nata da tutto il mondo, però si faceva solo gli ecchi. Solo gli ecchi si facevano. E quindi citevano il panetto? Citevano, citevano il panetto, citevano il pane. Quello che tenevano citevano il pane. E oltre a qui di Cronombo ne hanno portato fuori? Eh, e tutti i balserani. Tutti i balserani. Tutti i balserani. E calevano tutta l'ocamonte. E avevano tutta la nonna. E poi citevano le sacre della farina. A terra, alla cantina di Serbiace. Perché non citevano tutta l'ocamonte. E poi il pane, il panetto, se le portavano un capo. Ma citeva la nonna alla montagna? Eh? Citeva la nonna. Citeva la nonna. Tutta la nonna. E poi invece la mattina si faceva la distribuzione? Sì, c'era. Allora comencevano da Nanda a Soracchetta. A Soracchetta fino alla Portaioca. C'era la nonna. Tu sei passata qua la distribuzione della marina? Sì. Quindi per te c'era le gongi? Le gongi, una c'era da qua, una da là. E mettevano le bocche, le bocche, le bocche. Poi c'erano quelle che dicevano mettere su un mare. Tutti i bagatelli. I bucunci. Gli mettevano prima a fondo di nuovo, a fondo vecchio. Ah. A fare le indorzate. Ah. E poi mettevano a mettere cilicina? E poi si mettevano a fare la fila. E quindi poi si faceva la spilata delle gonghe di scagnate? Poi si faceva la filata delle bombe, le cose delle scagnate. Quindi tu ti ricordi solo le zuconette che le portavano. Eh. Ah, tante le ricotte. E le gonghe, chi le faceva? Ti ricordi di chi le faceva le gonghe? Eh, le faceva Peppe Catena. Peppe Catena faceva le gonghe, no? Eh, pochi, pochi. Tu mi ricordi qui alloramonte. Alloramonte, beh. Peppe Catena. E poi si arriva alla messa? E poi si arriva alla messa. Alla messa si portava una pannetta benedice. Sotto le... Sotto le... Sotto le... Sotto le... Sotto le... Palli... Le cose... Le mandelle si portavano a benedice. Ma i Portagalli non gestivano. Non gestivano i Portagalli? Eh, no. Quindi tu ti ricordi i Portagalli? Sì. Eh. Ah, poi c'è stata tutte femmine, io mi gestivano a Castello Romano. Eh, io non gestivano mai. E poi lo stavo a fare, c'era un po' di Palli, il mio Pochettore. Il Pochettore di Palli. Eh. Allora, il Pochettore... Caldo, il Peppe Giliwa. E poi, non le aveva cantata, un po' di... ... sotteva freddi... Scusa. Scusa. Scusa, si stavano. Allora ho detto a nonna, oh nonna beh, qui lì in un bar dì, era in un bar di sbioci, mi aveva messo a Fonte Nuova, la Fonte Nuova, la Fonte stavano a portare via, a portare il bar. Sì. E che chiamano? Queste oreggio stavano morti, fredde morti e gli uomini stavano dalla Fonte. Quindi gli uomini tra i cavanti stavano in tre castelli domani? Gli uomini boevano. Bovevano, sempre questa è stata la Fonte Nuova. Sempre, a Sant'Antonio boevano. E che doveva da Beu? Che passasse da Beu? Ah, il vino. Il vino? Quello stavano, pure l'acquata. L'acquata? Che è l'acquata? Già che era l'acquata? Allora, quando cominciano per fare il vino, quelle cose che rimanevano, gli mettevano i bugungi, gli bugungi si vanno gestati che tenevano la chiavetta e bevevano quel vino, l'acquata. E quindi poi, praticamente, e i pomeriggi che facevano? Che gioco? Che gioco ti ricorda di cosa facevano? Eh, quasi niente. E da dove c'era la penetrazione degli animali o no? Sì, dopo mezzogiorno. Prendetevano gli animali, perché portavano i cani, portavano pure le cagline. Pure le cagline? Eh, proprio le cagline, allora. C'era delle mantelle, no? E a dove si faceva la penetrazione degli animali? All'arte sante. E i porti cagli che mettevano la santa? Si partevano le radie, tutte, ma si facevano... No, 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 no. Quello si partevano tutti i santi. Tutti i santi, eh. E vabbè, grazie. E vabbè.